ed è per questo che noi abbiamo deciso di diventare una vera esperta di sentimenti quest'oggi per parlare della posta, del cuore di Kashmir Podcast abbiamo sottoposto ai nostri ascoltatori la domanda di insomma proporci le loro questioni di cuore questioni sentimentali da commentare quest'oggi qui con la Kashmir Family ciascuno ha la sua esperienza, ha la sua storia ma c'è un jingle è venerdì e già lo sai la morbidezza accoglierai su youtube e su spotify basta che mi play Kashmir Podcast un podcast morbidissimo buongiorno e benvenuti alla decima puntata di Kashmir un podcast morbidissimo jingle of the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh eh ragazzi ormai ci siamo ormai ci siamo ci siamo eh si sente nell'aria il profumo della festività più amata dagli italiani ma anche dai non italiani ma da tutti è quella che mette d'accordo tutti quanti tutti quanti tutti quanti persino il Tahir è contento quando è Natale quando c'è il Ramadan non stiamo parlando del Ramadan cari amici benvenuti alla decima puntata di Kashmir ormai veramente siamo sotto a Natale se c'è una cosa che si faceva sempre a Natale che ormai non c'è più non in quella cultura il cine panettone il film che d'inverno ti riportava in estate ti riportava in estate perché ricordiamolo l'estate non è una stagione ma uno stile di vita come voi ben sapete e noi potevamo signori privarvi del nostro cine panettone potevamo privarvi per queste feste del cine panettone di Kashmir siamo molto contenti di annunciarvi che è in uscita Kashmir Summer Tour il film il meglio del nostro tour estivo ripreso sapientemente da Thai Rock musicato e funicato dal maestro Carmelo Avanzato sia oso la puntata è in ritardo però avete capito qua stiamo a fai firm stiamo a fai firm ma tu ma vai a mettere fretta a Sorrentino a Tarantino a Nino D'Angelo cioè i film stiamo a fai qua mo vi spiego un attimo questa cosa sotto c'hai un linketto tu ci vai al sito di The Comedy Club e ti iscrivi alla chat con una mail che controlli perché poi sulla mail ti arriva l'avviso il filmetto è uscito e soprattutto stai al ciocco perché appena ti arriva la mail ci sarà una sorpresa una sorpresa morbidissima lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire una sorpresa morbidissima quindi detto questo preparatevi per fare comunque delle vacanze super morbide con la copertina il caminetto e questo filmetto il filmetto di Kashmir ma che volete più pure il filmetto di Kashmir c'è il coramba è mutato però vostra mandata va bene dai dai sì io sono puntata in ritardo dai ciao guardatela ciao per fortesia cerchiamo di mantenere alto il livello cerchiamo di insomma in base alla cosa c'è Luca Lavin per esempio è il primo tra i grandi protagonisti del Kashmir Summer Tour oltre ovviamente ai due noti registi che vedrete anche in ruoli particolari ci sono le nostre le Kashmirine quanto vi è piaciuto quando vi chiamavamo Kashmirine Alice Cecilia ci siamo accese mi sono sentita come a quell'edizione di selezioni per le veline che fescero nelle piazze d'Italia vi ricordate le veline bellissime veline e velonze sere in cui Ezio Greggio finita la registrazione diceva io vado a letto preferisco andare a letto che domani abbiamo le registrazioni presto buonanotte con un bel libro di Ken Follett nessuna che vabbè che palle Natale è Natale tempo di bilanci tra l'altro non l'abbiamo mai detto ma noi poco tempo fa abbiamo festeggiato un anno di Kashmir è vero è vero è vero un anno di Kashmir la prima puntata uscì il 4 dicembre del 2020 eravamo giovani eravamo diversi e non avevamo dei maglioni così belli esatto non avevamo soprattutto ancora degli sponsor che ci regalavano i maglioni e possiamo essere più felici oggi di avere degli sponsor assolutamente regali con danno delle regalie avevamo iniziato con la speranza che ci regalassero qualcosa e questa cosa oggi è in realtà ed eccoci qui tu vesti uno splendido maglione in Kashmir attenzione riciclato 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 perché quest'oggi indossiamo dei maglioni di Rifò che è un'azienda toscana che realizza soltanto maglioni in Kashmir riciclato quindi fanno bene a voi perché vi schiardano fanno bene all'ambiente perché non si butta nulla hai scelto una tonalità straordinaria un melange blu e azzurro in onore dei campioni d'Italia in carica e della capolista l'internazionale football club di Milano dei campioni d'Italia del prossimo anno lo sceglievo tutto quanto azzurro questo maglione mi dispiace Luca Ravenna campioni d'Italia del prossimo anno non se ne parla ma no ti sta molto bene molto bello ti piace? ho scelto questo club perché mi dona molto e devo dire che anche tu sei un po' il Kurt Cobain di Piazza Missori ho scelto il cardigan ho scelto il cardiganino perché non ce l'avevo mi piaceva moltissimo questo qua per fare l'amore con un over 70 alla fine del mondo perché tieni su solo questo infatti lo devi regalare a Carmelo secondo me starebbe benissimo anche a lui devo dire ringraziamo moltissimo Rifò trovate tutto sul loro sito Rifò trattino lab.com abbiamo messo anche il pratico link in descrizione fa bene voi fa bene all'ambiente cashmere riciclato è un tempo di bilanci la cena di Natale è sempre quel momento in cui si va dai parenti quando si è in coppia tu vai di là io vado di qua poi ci rivediamo dopo oppure la facciamo insieme nuove famiglie che crescono la coppia è al centro anche perché è la famosa domanda della nonna ma tu la fidanzatina ma la fidanzatina quando ce la fai conoscere questa fidanzatina e tutti questi grandi cliché e come legarsi per Natale è un momento di sentimenti altri non ecco si lega l'amore hai trovato il gambetto più o meno si fa una fatica per il tema della puntata ci stiamo arrivando no la scomodità quando si è in coppia di fare Natale dai parenti di lui o di lei o di chi che sia ah lo so bene quando si va in campagna e si deve che ne so si vuole fare si vuole un po' di intimità però si trova nella stanza di quando lui o lei erano piccoli e si deve fare piano piano perché la nonna perché i piccoli non sanno che quella porta va chiusa entrano dentro e lo zio Edoardo e lo zio Edoardo e lo trovi un attimo lì oppala che diciamo sta tagliando il patanetto ecco mettiamola così mettiamola così eh quello è un momento straordinario però è lì che si diventa grandi è lì che si diventa grandi è lì che ti scopi tua cugina il giorno di Natale quello è proprio il momento in cui si scopre quella cosa lì quella cosa lì tutto questo pane girico per fare che per parlare del tema della puntata di oggi esatto ossia i sentimenti i sentimenti le coppie relazioni le relazioni ma soprattutto la posta del cuore quando è che hai capito che ti interessava non dico che ti interessavano le femminucce però hai capito che l'amore esiste ed è una cosa che muove assai tanto e forte onestamente quando ho conosciuto la prima femminuccia della quale mi ero innamorato alle elementari perché provai questo senso di attrazione e lì capì che esistevano i sentimenti e non sapevo cosa farmene perché poi avevo avevi dei giocattoli sette anni avrò avuto sei anni sette anni quello e poi prima ancora quando mi innamorai della mia maestra di che poi perché non andavo a scuola delle suore quindi non mi innamorai delle suore diciamo la verità mi innamorai della maestra che ci faceva le cose che le suore non potevano insegnare tipo l'equivalente dell'educazione civica dell'epoca di quando hai sei anni e vai a scuola delle suore educazione sessuale forse non era neanche educazione sessuale non era quando è che tu hai scoperto i sentimenti? penso all'asilo io all'asilo gestivo un paio di fidanzatine ricordo che la maestra Fausta mi disse mentre ci baciavamo io e Leonora con la quale avremmo fatto lei, Maria e io, Giuseppe in un'attività teatrale ci ha detto basta voi due perché stanno tutto il tempo a fare ah ma proprio all'immunicchiare all'immunicchiare solo con la bocca e quindi lì ho capito che c'era qualcosa oltre al pallone pensa quanti anni avevi? 5-6 penso quando è che le ragazze hanno scoperto i sentimenti? io credo all'asilo asilo però mi ricordo benissimo quando eri pulcina mediana o grande? se non eri pulcina tre anni facevo i primi disegnini che erano solo righe dei cazzi giganteschi cazzo che non ha mai smesso di fare no da regalare a un mio compagno di asilo che mi ricordo benissimo si chiamava Damiano si chiama Damiano non so sappiamo cosa fa oggi e questo Damiano era indeciso tra me e un'altra compagna dell'asilo che si chiama Manuela e ci ha tenute in ballo per tutti gli anni dell'asilo quindi noi continuavamo a fargli disegni e lui non si sceglieva non sceglieva mai ma anche io ho una storia di merda all'asilo una relazione tossica questa carassima di moda il seno di poi era tutto tossico avevo 5 anni Mirko ci fidanziamo io un giorno porto a scuola un ciccio bello dicendogli Mirko questo è il nostro figlio e lui mi fa io oggi sono fidanzato con Claretta Petacci ovviamente questa Claretta maledetta così ho conosciuto l'amore ma anche l'odio amore e odio aspetta mettiti nei panni del povero Mirko che era venuto a classe tranquillo vivere la sua relazione con la bella rossa della classe questa gli tira fuori un figlio cosa assurda questa brigatista incinta infatti non ho mai avuto quella cosa di giocare con le bambine non so perché ho fatto questa mossa forse mi volevo sabotare ti volevi sabotare vedi che strani meccanismi i femmini quanto è complicato ragazzi già da bambine noi siamo a malapena in grado di scrivere su una di viola invece voi già vi fate le autosabotazioni però io il vero il vero amore quello proprio ho capito cos'era quella cosa di cui leggevi si cammina due metri sopra terra l'ho provato alle medie alle medie lì ero già direzionato che avevo capito che l'affetto sarebbe stato speciale e ho fatto dei grandi qual è il regalo più stupido che mai hai fatto per amore a una ragazza un paio di scarpe di una bruttezza di una bruttezza cioè non te lo so neanche spiegare mi aveva affascinato il fatto che fossero tipo di finto serpente nella mia mente erano eleganti erano di una tonalità che era tipo fra il viola e il disastro ambientale cioè era come se una petroliera si rovescia in mare e io mi ricordo io regalai queste cose alla mia fidanzatina delle medie peraltro le pagai anche tanto gli regalai questo paio di scarpe e mi ricordo la sua fa era come se adesso provo a ingoiare questo secchiello di salatini e non bevo poi dopo per mezz'ora lei era solo e non sapeva ma lei ha mai messe mai messe ma dove le hai prese queste scarpe e poi le hanno stivali no ma lei è una cosa no è un negozio per signora a Balduin a Luvim bravissimo mi sa che le confrè mi sto immaginando questa moto tipo Anastasia mi ricordo che aveva queste cose pitonate era un po' figlia dei tempi mi sa che avevo visto TRL e la premiazione degli European Music Award mi sa che era quella roba lì bellissimo regalo cos'è che tu hai regalato? io ho i primi soldi guadagnati facendo il doppiaggio della pubblicità di Ikea alla radio ha dato 400 euro per fare il doppiaggio in pubblicità comprate i nostri lac esatto sono intrucelosissimi esattamente ho fatto pagare i soldi sul conto di mio padre che non aveva un conto mi sono fatto dare i soldi quindi vi ho rubato tutta la tassazione eventuale sono andato da un fioraio e ho speso 80 euro in margheritone ora le margheritone nel 2004 costavano tipo 3 euro quindi io mi sono presentato sotto casa nel finito da allora con questa batteria di margherite tipo che io non c'ero c'era che pensavo che fossi un vaso ero nascosto dietro e gli ho dati e ho detto che cazzo me ne faccio e ho detto eh in effetti forse un po' troppo ma era tipo non so 20 kg di fiori stavo così con le braccia che mi trinavano il regalo più stupido e il regalo più stupido che mi hai ricevuto da una fidanzatina più brutto il regalo più brutto che abbia mai ricevuto da una fidanzatina è madonna mia un biglietto del treno che poi non ho mai preso perché la lasciai due giorni prima di partire quella madonna mia se mi sono sentito in colpa a fare quella cosa chiedo scusa ancora chiedo scusa ti rispondo con il singolo Mambo Number Five di Lubega carino regalatomi dalla mia fidanzatina il mio amore storico delle medie Marta Manzoni che saluto che me l'ha regalato e il giorno dopo eravamo in seconda media stavamo insieme dalla prima mi ha detto comunque io quest'estate ti ho tradito e ho baciato un altro ragazzo e io tutto vestito di tutto punto con New Balance Polo Ralph Lauren e Levi sono andato camminando come in Manhattan ho tirato un pugnetto a un ramo per la rabbia che rabbia mi aveva tradito con un ragazzo che si chiama lo ricordo ancora Francesco di Gorgonzola di fuori Milano di anni 15 avevano limonato e questa cosa mi ha cambiato per sempre nella mia personalità per sempre quindi io non ascolto quel cd non l'ho mai fatto suonare ah sì perché mi piaceva immaginarti però a casa però lo ballo benissimo però con l'occhio con la lacrima che scende piangendo mia madre che apre per fare il colore come dice Fantozzi quando sente la signorina Silvana e i calboni che scopano in un'altra stanza e pianse da uomo con dignità nel silenzio la cosa mi ha cambiato altrimenti I like Angela Pamela Sandra and Rita e Mr. Francesco from Gorgonzola eh ragazzi però veramente l'amore ci porta avanti l'amore ci ricorda cose bellissime perché ci sono poi una serie di coppie che si sono separate che uno spererebbe che tornassero insieme quanto è bello seguire le coppie principalmente quelle famose oltre a quelle degli amici e vedere viverle come delle telenovelas sperare consigliare vorresti consigliare l'amico che si è lasciato grandi coppie che si sono lasciate tipo qui leggo a caso a che fine ha fatto Agnese e Renzi tra l'altro stanno ancora insieme ma certo stanno ancora insieme ma certo no no parliamo di coppie che sono Fiorello e Anna Falchi per esempio ma io però non li ho mai un must della nostra giovinenza per me si stavano distruggendo una relazione che stava rischiava di rovinare magari la carriera di entrambi perché Fiorello arriva a quinto la famosa frase arriva a quinto a Sanremo e uno dice ma lui che gli frega c'ha la Falchi in camera c'è stato un Anna Falchigate piaceva a tutti ci saremmo voluti immedesimare in chi stava con lei ora voglio vedere come andiamo avanti Katia Ricciarelli e Pippo Baud beh loro posso dire bellissima coppia al tempo chiedilo al commercialista di Pippo Baud ma si può dire ma lo diciamo fare come Alda Deusanio che si è fatta buttare fuori dal grande fratello perché ha detto delle cose su delle coppie un po' fortine molto brutta Alda Deusanio disse delle cose molto brutte molto brutta ma invece scusate una maravenier Gerica là beh secondo me quanto poteva durare lui l'ha fatta soffrire però si vogliono un sacco bene pare che lui l'abbia tradita il giorno del matrimonio in bagno con un travestito o sbaglio questo ragazzi però così metti subito le cose in chiaro cioè nel senso se il giorno del matrimonio ti riesco con un travestito ma poi in che momento del giorno del matrimonio dopo la cerimonia durante la festa lei non lo trovava pare lei non lo trovava era nel bagno delle e anche lì ha aperto e ha fatto oppela oh scusa occio però occio occio però che cazzo monto questa parte ma tu monto ma invece scusate coppia quella storica un po' di tutti ok vai ma chi è Avril Lavigne e il cantante di San 41 ma certo eros e michelle eros e michelle eros e michelle doveva andare come è andata no adesso invece domanda per tutti quali sono delle coppie che guardavate da piccoli a cui vi siete ispirati ho detto io vorrei essere così vorrei essere come loro Costanzo De Filippi vorrei proprio essere come loro Kim McCann Kim McCann e giustamente tu li vedi da piccolo David e Victoria Beckham sì beh io volevo essere come David Beckham con Victoria Beckham lei simpatica brava a cantare sempre un passo indietro al suo uomo vogliamo dirlo della gamma invece a saprò chi rianna eh? a saprò chi rianna a saprò chi rianna Alice? Alex Turner e Alexa Chang ovviamente giustamente ognuno dei suoi che vorrei tanto tornassero insieme e invece abbiamo questo appello Alex e facci sto favore dai if you are listening to the cashmere podcast in your house 10 anni me lo siamo lasciati dai in un apartment in Sheffield a me piacevano Demi Moore e Bruce Willis ah belli loro che poi aprirono insieme l'hard rock caffè planet hollywood planet hollywood hanno le quote carino ma però mi piacevano anni 90 loro bella famiglia cioè belli poi da vedere io vi cascherò ma a me piacevano tanto 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 Chris Martin e Gwyneth Paltrow eh vabbè tantissimo madonna che antipatia no dai erano un po' di troppo poi si somigliano come i cani ai padroni della carica di 101 no belli belli è che Brad Pitt prima c'aveva Jennifer Aniston e comunque e Gwyneth Paltrow vabbè però sì però Gwyneth Paltrow insomma vabbè ma il grande classico ma l'amore non si comanda il grande classico delle coppie da gossip è che è come in uno sceneggiato vuoi sempre il click in più c'è un tradimento da un ritorno di fiamma arriva un Valerio Trancalini che mette in crisi la coppia può succedere qualsiasi cosa può succedere qualsiasi cosa John e Yoko una delle coppie più amate dai fan della storia ecco se Yoko avesse avuto la sua parte più fulgida della carriera in questi anni diciamo che su internet ne avrebbe sentite elicotte ho la sensazione che qualcuno avrebbe detto poi ci sono invece non tutti sanno che in realtà non era una coppia sanissima c'era John che era violento la tradiva davanti a lei nelle feste e addirittura un anno e mezzo Yoko gli scelse la donna con cui tradirla perché voleva avere controllo era una ragazzina cinese di 19 anni era giapponese anche lei no mi sa che era cinese che era la stessa che Jerry Galassi stava una storia abbastanza torbida 18 mesi maipang e giapponese lo fanno eh ragazzi questo è coppie belle coppie meno belle avranno come tutte le coppie del mondo avranno anche loro dei problemi chissà se ogni tanto si appellano che ne so un esperto o cose del genere però per esempio coppie di merda coppie malassortite voi che sapete io ne ho una che me ne è venuta in mente adesso Francesco Facchinetti e Ida Jespica mamma mia sono stati una coppia ma certo lì sono stati una coppia ma sì lei lo chiamava Eldj 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 e Chavez lo chiamava Eldj Eldj penso che anche con lui dai carrellata di coppie di merda forse da tagliare sicuramente Carmelo Mastrota e strada Mastrota e strada grande coppia della mia non era coppia di merda era una coppia bella io volevo essere Giorgio Mastrota per Natalia e strada allora Tair sei notato per una frazione di seconda ci siamo toccati l'indice se puoi far comparire Giorgio Mastrota e Natalia e strada mentre ci tocchiamo l'indice a B tipo la fight club un frame tipo i gemelli del destino scusate ragazzi altra coppia discutibile Silvio Berlusconi e Francesca Pascale insomma peggiore compagna di Silvio possiamo dirlo forse peggiore meglio Noemi Letizia meglio Noemi Letizia tra l'altro sta benissimo in forma smagliata lo trovo bene si si è una persona posso dire risolta risolta sicuramente invece Briatore Gregoraci che va top però secondo me a loro modo si amavano a loro modo si amavano a parte che ancora il matrimonio non è chiuso appunto mai dire l'ultima parola mai smettere di sognare mi fa strano Briatore Heidi Klum quello mi faceva strano quello era un po' strano comunque ragazzi Briatore Briatore come c'è pure lui nella tavola periodica anche Naomi Campbell è il Briatore Naomi Campbell è il Briatore ma che c'è da sto Briatore ci spiegate un attimo ci spiegate un attimo che non ci aveva che non ci aveva Casalino il fidanzato cubano non erano una bellissima coppia John Kennedy e Jackie Kennedy se c'è una coppia che ha sofferto e diciamo più che una coppia una donna che ha sofferto è la ex moglie del Presidente degli Stati Uniti John però non erano una coppia di merda posso dire pure una coppia di merda Bill Clinton e Hillary Clinton diciamoci la delità ragazzi coppia tossica Elvis aveva un po' non serenità non si respira serenità Elvis aveva veramente il vizietto Bill Bella coppia invece Rutelli Palombelli Rutelli e Barbara Palombelli bellissima coppia grande amore noi hanno la benedizione del Cashmere Podcast assolutamente vedo l'ora che ci invitano però poi magari succede ci invitano ti immagini a cena a casa loro avranno una casa in maggio lo so che ci vanno all'argentario sì e andare lì a fare io e te a cena da loro io da loro andrei a fare anche proprio lo spettacolino privato stasera Edoardo e Luca c'è una festa privata dove andare a fare i giullari vado e ci scriviamo il film della vita bellissimo bellissimo e altre coppie coppie di merda posso dirne una pesante nonostante rispetto tantissimo Ambra e Francesco Renga no invece io non sono ragazzi secondo me loro due cioè proprio non matchavano anche secondo me troppa Brescia troppa Roma qualcosa non andava invece io rivedevo come una bella famiglia non mi è mai tornato niente forse Angelo la sua Melo ma quanto è arcaico questo bisogno di gossip che riusciamo a fare anche dai Vangeli per Gesù e Maddalena beh è proprio sì è il sale della vita è il sale della vita ma tesoro diglielo a una certa persona che conduce un programma vistissimo Sandra era il mondo bellissima coppia la vera coppia la vera coppia italiana veramente bellissima coppia a casa loro a cena gli scorsi leggermente reazionari e di destra però eh però succede però può capitare infatti oggi probabilmente le donne non prenderebbero bene come immagine come ne usciva dalla serie per fortuna Sandra che noia che barba eh vabbè ma quello è il sale dell'Italia ma se dovesse esserci l'unica coppia che mi viene in mente che oggi potrebbe stare a quel livello è una sola non viene da non sta a Milano 2 ma sta a Roma e noi oggi qui abbiamo ospite metà di questa coppia straordinaria abbiamo qui per caso la Michela Girò oh finalmente parte finalmente dei come si chiama la vostra coppia i? i Cotto i Cotto perché c'era anche Giraccio però ho detto no Giraccio sembra veramente una famiglia di campo basso sono Giuliano Giraccio sono lo zio di Michela che mi fa tante ridere in televisione quando ci hai fatto ridere quel programma che c'è stava pure con l'altro milanese che non parlava che non si ricordava come cazzo lui proprio non posso proprio dimenticare quando mi stava su gatti che facevo dai Luca possiamo farci e lui non ce la possiamo fare uno dei due poi invece ce l'ha fatta esatto non sveliamo in retroscena non sveliamo chi ti ha suggerito il mignottone pazzo dietro le guinde la vita la vita è stata la vita è stata la vita chiamola così non è vero sono andati gli autori e hanno detto senti Michi ma perché non fai un po' il mignottone pazzo e lei l'ha preso no sai che bella ha detto Katia a Tellone la mia gente che è la gente perché io stavo lì e a un certo punto è successo questa cosa allora sono arrivati i legali dicendo non si può dire questo 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 io e Luca ci guardiamo prendiamo i monologhi facciamo così li buttiamo completamente e io stavo lì facevo che faccio cucini la psicopregna e lei mi fa no no devi fare il mignottone pazzo dico ma come io non fa no il mignottone e quindi è stato the first mignottone pazzo ed eccoci qui ma eccoci qui adesso c'è il mignottone pazzo poi tu farai anche tutta una serie sulla prostituzione in Pernilla certamente legale 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 infatti non impugniamo in Austria peraltro sponsorizzato dalla Marina Militare no no questo no perché mio papà è ammiraglio ragazzi no qua mi mettete qua è come disse quel tale non mi rovinate salutiamola la Marina Militare questa traduzione si chiama Amerigo Vespucci parla di questa donna detta un po' la nave scuola ragazzi esattamente così bella ce l'abbiamo solo noi soltanto noi no 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 non citiamo l'esercito però citiamo invece il programma che in questo momento in onda su Real Time al martedì ossia c'era una volta puntini puntini l'amore non c'è più Michela partiamo subito con questa domanda non c'è più l'amore ma allora secondo me l'amore per se stessi no non c'è più perché io insomma sento molte volte a me mi capita appunto di di scrivere su Instagram ragazzi come state e ricevo veramente delle storie di persone che secondo me non si amano perché l'amore parte tutto da lì dall'amore per se stessi grazie per essere venuti a Sentimenti grazie mille per questa puntata dove però potrebbe anche essere una risposta che fai a Silvia Toffanin che bella cosa che ti hai detto mi dicono che chi va da Silvia Toffanin non riesce a non dire tutti gli stracazzi suoi perché lei ha proprio questa capacità di farti parlare Pier Silvio Berlusconi con una doppietta è magnetica che meraviglia senti va bene quindi ora sei praticamente testimone e interprete delle relazioni d'amore di molti italiani che si rivolgono a te io sei tipo la maga annunzia a 4 euro al menudo la maga annunzia legge la carta sesso lavora amore rispondete a me e salute la salute un incrocio tra Nascia Prandi e Concetta Mobili poi da lì insomma chi ci segue solo persone solo persone di qualità poi vi invito ad andarle a vedere su youtube per capire ma le persone questa è una mia curiosità personale le persone che decidono di andare a confessare le proprie cose personali nei programmi televisivi cosa le motiva ma a Michela Girò soprattutto ma guarda secondo me ci deve essere quel filo di misto di magari un po' mitomania ma anche difficoltà perché alcune persone e io le ringrazio sempre per essersi affidate a me e comunque sono persone che magari pensano davvero dicono vabbè speriamo che ci aiutiate e noi a modo nostro ci abbiamo provato ma infatti svegliamo un altro retroscena tu dovevi fare la parte del terapeuta in De Ferragnez è vero è verissimo Chiara e Federico a chiederti come è la situazione come non è la situazione capito e poi proprio si è scelto di fare due programmi separati Federico smollate sì io ho visto la prima e la seconda Federico dai smollate la prima e la seconda ho visto e come vedendolo ti sei sentita top ti sei sentita presa bene o a volte un po' presa male allora io vedendolo ho capito una cosa perché io sono Fedez totally e Riccardo è la Ferragne perché Riccardo mi guarda e mi fa tu non ti godi niente di quello che hai e io faccio questa cosa è una merda andrà una merda come tutte le cose e io sto lì tipo no capito che c'è tutto leggo dieci commenti e due sono offesi ho detto lo vedi lo vedi che mi hanno scritto lui mi fa perché non ti godi nulla di quello che hai è sempre avvolto da quest'area di positività e invece io sprofondo perché vengo da questa storia in cui della mia vita in cui tutto è andato male e tutto male andrà quindi ci siamo proprio scambiati secondo me ma lui ti ferma ogni tanto e dice amo amo top sto preso bene ma lui ti dice pigliate bene devo andare a fare le cose di desire non so che cazzo non mi piace definirmi influencer sono un imprenditore digitale esatto dice le cose che dice Chiara Fragni ma indizione amate l'S Roma più di voi stessi più di voi stessi ragazzi be positive and the S Roma will be positive with you esatto l'abbiamo visto vabbè comunque è un programma penso stia facendo un botto va immagino di sì c'erano i cartelloni a Times Square pensa che bomba ambientarlo in un tu lo faresti lo faresti tu e Riccardo un programma del genere oddio che ti posso dire se ci stanno i miei sì perché secondo me sono i nostri genitori la discriminante capito pensa la scena quella loro del pranzo che stanno tutti quanti insieme arriva l'ammiraglio tua mamma il genito beh vabbè è avvenuta capito pensa che c'è Riccardo che per per ringraziarsi mio padre è diventato un marin stitico no 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 cioè mio padre era un pochino chiuso insomma vabbè tu lo sai perché facciamo subito questa paesanata e Edoardo ci conosciamo da tempo e memore abbiamo frequentato lo stesso liceo per caso è detto liceo classico Terenzio Mamiani guarda io non lo posso più citare l'unico liceo a Roma e gli altri non sono nessuno c'è il ban vabbè per caso è detto quartiere Balduina quindi capito come al solito perdiamo tutti gli ascoltatori extra romani a Trieste hanno cambiato canale esatto hanno messo Italia 1 vabbè dicevo quindi Riccardo dato che mio padre era un pochino non gli piaceva molto questa cosa che avesse i capelli lunghi vabbè mio papà militare che dobbiamo fare quindi la prima volta che ha visto Riccardo Riccardo c'era tipo la cipolla e mio padre Riccardo l'ha girato il ban si chiama Bun non cipolla per forse sia ah cipolla perché mi devi dire questa la cipolla di tropea la cipolla bianca ma perché ma Bun che è il mio è un Bun asiatico se permetti è quello che hanno i samurai io chiamo la cipolla se permetti con la katana sciaffetto a mortadella sono il samurai quindi mio padre guarda Riccardo ognuno ha i samurai che si merita ma come l'avete scoperta questa cosa del ban è una cosa famosa anche io stavo pensando se farmi crescere un ban però con i miei capelli ricci per cui praticamente ti ando tipo un Lucio Battisti un garofano esatto io te l'avevo proposto quest'estate hai avuto una bellissima idea a un certo punto Cecilia ha pensato bene se starei a dirmi comunque tu quando arrivi a 40 anni ti devi fare un taglio per cui sei tutto quanto rasato qua sotto e hai un pochino una coda che ti sale in questo modo cioè praticamente capito sei tipo il gatto male Bob Angelini eh sei Bob Angelini lo sai perché io in Alice veniamo a un ristorante sushi a metà della Tiburtina sì esatto e salutiamo e salutiamo il computer a un certo punto il cameriere ma quello è su mio che cazzo Edoardo ecco perché è sparito da tutto guarda come si è fatto grosso un bel tatuaggio piacere esatto sono quello di Lollo e Andrea esatto questi oggi abbiamo gli osomaghi di salmone vi posso portare una bella sashimino di tonno perché dai mi sento di dire che partì su ci fai ma sta sbuciona che io voglio dire che io voglio dire non si ricorda più le sue battute ma anche tu come me e Alice sei affetta da questo guilty pleasure inconfessabile che è l'amore per Fabrizio Corona no ragazzi vogliamo dirlo no ragazzi stai parlando con una ragazza io e Alice ci mandiamo ogni tanto senza dirci nulla ci mandiamo dei post di Fabrizio Corona è amore fisico spiegatemi il sottointeso è l'hai visto e la risposta è sempre sì già visto già l'hai cato non ci aspettavamo che le donne facessero queste cose l'amore per Corona è totale non solo fisico mentale è fisico serio vi piace Fabrizio Corona fisicamente lui è stupendo a me è proprio oh dai non ti piace lo puoi dire hai detto di peggio eri innamorata di Cassano cioè non è che formalizzerò ho avuto un periodo a 14 anni in cui un po' per l'accento barese un po' perché era un po' capito quello criminalotto e quindi a 14 anni e poi si è scelto se si è scelto l'edica l'edica con le gambe al posto del topix non usava il caglio della burrata Cassano perché invece invece lì c'è scelto un Fabrizio Corona Luca Like Luca Like Luca Like esatto allora a proposito di Fabrizio Corona partiamo proprio da qui cioè ripercorriamo tutte le storie mi sono rimasto un attimo così guarda Luca Like di Fabrizio Corona guarda comunque per concludere e gli togli il sud e gli metti le fatture e Luca Like è lui ti sto guardando e in effetti mi puoi fare viva la libertà viva la libertà eh no ma non la so cantare allora ma non è solo fisico perché Corona è una buona mappa per parlare del nostro viaggio nei sentimenti allora quale periodo coroniano preferite periodo Moric periodo Belen Rodriguez periodo Fabrizio Corona con Silvia Provvedi o mi sbaglio Silvia Provvedi o periodo Fabrizio Corona con Lele Mora qual è il momento sentimentale ovviamente l'unico vero le demora Belen pure io no no Belen è tutta la vita la volta in cui ha veramente provato i sentimenti è stato quando lei diceva Fabrizio è mio è quello che me lo tocca che lei stava lì era impazzita guarda Tair come annuisce sorridendo si è seguitola Belen è una seconda madre ma nel libro di Corona non c'è una seconda nel libro di Corona scusa nel libro di Corona c'è il capitolo Fighe in cui parla Michela non l'hai letto allora posso dirti no me lo devi passare però guarda le prime pagine io incollata bellissimo è bellissimo nel capitolo Fighe lui parla del suo amore e dice alla fine che l'unica donna che ha mai amato nella sua vita è Maria Belen Maria Belen ma all'inizio di lui è una zia di Belen che era rimasta in Argentina l'inizio che lui entra in palestra c'ha lo sguardo con quella e scopano ma la roba totale è Asia Argentina un orologio 50.000 euro capito mi ricordo quella parte lì molto bella gran penna Fabrizio chi non ha vissuto questo genere di cioè questa cosa che tu entri e ti mai capito di entrare in una stanza e di percepire nell'area che ti sarebbe bastato un cenno per scopare certo ovviamente tutte le volte che entravo a Lupino la piazza della Balduina credimi che al reparto quello delle mutande 3-10 euro quello sotto non quello sopra brava quello sotto che sopra c'è Croft brava esatto erano quelli i momenti in cui sentivo di avere The Magic Touch anche dei miei 14 anni tutto a 14 anni il piumino enorme esatto parli fuori profumo delle ascelle da rimandare a casa da rivedere a settembre scusi salve se al capone i calcini ma quanto sei che ero certo lo so sai che te starebbe bene un bel ciuffetto banni ne riparlavo nel 2021 ma io ho i capelli ricci sembro un garofano quando scappavamo dai controllori del 999 ti ricordi la fuga da Alcatraz mi torna la questione la questione vietna ma invece scusate il Fabrizio Corona Nina Moric non ci ha mai creduto nessuno in quella storia lì però è stato lei ci ha fatto la figlia figlio un figlio carlos deve stare fuori da questa merda sì io purtroppo carlos maria che è quello che appare in quei video che io sarei veramente felice di avere mio padre che in un video su instagram mi fa di chi sei figlio tu sei fortissimo continua a guardarmi di chi sei sono figlio tuo alza tipo un bilanciere di plastica della playmobil non devi mai mollare è tipo Fabrizio Corona è un podcast motivazionale però è tuo padre sempre pensa come ne viene giù sicuramente non avrà influenza sulla sua crescita questo viene su tranquillo e sereno sicuramente ma si è scritto a filosofia carlos maria è intanto mentre noi siamo qui a fare i coglioni giustamente appunto vivere non è una cosa che vivono in tanti questo fascino strabordante che entra in una stanza e poi far l'amore con chiunque uomini e donne è comunque complesso ed è per questo che noi abbiamo deciso diventare una vera esperta di sentimenti quest'oggi per parlare della posta del cuore del cuore di Kashmir Podcast abbiamo sottoposto ai nostri ascoltatori la domanda di insomma proporci le loro questioni di cuore questioni sentimentali da commentare quest'oggi qui con la Kashmir Family ciascuno ha la sua esperienza ha la sua storia ma c'è un jingle quindi Michela noi adesso andiamo tanto grazie mille a tutti gli ascoltatori ascoltatrici su Instagram che ci hanno mandato le loro bellissime esperienze perché domande a volte domande a volte no grazie a Federico Melzi che ha raccolto tutte le testimonianze del podcast davvero non è stato un lavoro facile e ne vorremmo chiederti appunto sottoporti qualcuna di queste piccole esperienze di vita di spesso ragazzi giovani e ragazze giovani e da cosa vogliamo partire io partirei con un po' di leggerezza non diciamo neanche il nome non si dice neanche il nome perché promettiamo che rimaneremo anonimi un ragazzo dice e ci racconta a lavoro c'è una ragazza che mi piace lei è in partenopea penso che volessi dire è in parte partenopea e in parte peruviana come faccio a superare la barriera linguistica che ci divide il napoletano perché questo ragazzo mentre è peruviano e non sa come entrare nelle grazie però io non ho capito bene lui è peruviano no lui non si dice però lei è metà napoletana e metà peruviana quindi facciamo io se dovresti rispondere fare un passo indietro cioè come il padre questo signor esposito ha conosciuto questa i bagnets ragazzi peruviana e le ha detto non lo so voi avete la cocaina noi abbiamo l'amore che dobbiamo fare nel 1961 mi sono regato a Lima in Peru e ho incontrato questa bellissima donna si chiamava Rosaria e abbiamo detto i bagnets i bagnets quando l'ho vista ho riconosciuto nei suoi occhi lo stesso sguardo che il Vesuvio tutte le mattine mi regala quando mi affaccio al Golfo di Napoli anche lì c'è una questione vulcanica molto importante e anche la forma ricordava quella del vulcano stretta stretta sopra allargava allargava insomma come si supera una barriera linguistica allora come si supera vabbè una barriera linguistica innanzitutto lei è metà peruviana e metà napoletana quindi un po' cattia ma bella ma è questo che è un po' è un po' Fabrizio è mio dice che è la fine del mondo quindi metà Fabrizio è mio che me la tocca e metà allora secondo me lui deve il consiglio più vecchio del mondo deve essere se stesso deve essere se stesso perché secondo me se cerca di allora ingraziarla magari sai un cornetto una come si chiama galapegnos quelle cose cornetto del peperoncino galapegnos guarda questo è l'appropriazione culturale in debita sai queste cose capito ok grazie mille Michela in piazza da Montecitorio torniamo subito in studio andiamo con la prossima notizia Edoardo Ferrario allora Rachele ci dice salve a tutti il mio dubbio è se dopo un anno e mezzo non mi ha fatto conoscere ancora nessun familiare è preoccupante sì perché è Tair sì è preoccupante perché che vuol dire che non è una cosa seria e tu non gli interessi ecco potrebbe anche o i familiari non ce l'hai e lì è il momento sciarelli però insomma oltre il momento sciarelli abbiamo un piccolo aggiornamento non avevo terminato di leggere la domanda familiari appartenenti ad un movimento cattolico super radicale io totalmente estranea a questo mondo e questo cambia tutto perché allora lì subentra un pochino di vergogna magari no di shame beh pensa che roba presentarsi a casa di questi poi stradicali cattolico sono neocatecumenali che salutiamo salutate tutti i neocatecumeni che ci ascoltano però è tipo quella scena dei Simpsons ti ricordi quando vanno dal bifolco nella roulotte ti presento i miei figli lui è Shonda Eric Brian Michael sciamana 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 3 sciamana 3 sai che i neocatecumeni hanno 9 figli 10 figli però finché non si sposano non si consuma esatto finché non si sposano non si consuma o almeno questo ma allora chi se ne frega no vivete la vostra storia Michela mi rimangio tutto cioè se è così è evidente che c'è un gap della famiglia siete mai stati con una persona che aveva una famiglia veramente problematica dietro cioè per cui vi siete posti il problema se io dovessi stare con questa persona poi dovrò conoscere i suoi genitori sarà complesso e li ho conosciuti e li hai conosciuti attenzione li ho conosciuti ha un ricordo straordinario no non faccio non si può non si può dair dair forse può dire io daiafa mi hai guardie tutte guardie io ho 17 anni cannarolo tutte guardie ma secondo te a miraglio è considerato guardie no 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 carabinieri o polizieri una guardia marittima una cosa volevo dire prima Riccardo per ringraziarsi mio padre ha comprato l'imes rivista di geopolitica questo ormai per me è talmente tanto confidenza è diventato una lettura d'accesso però c'è c'è riuscito capito quindi insomma devo dire che ha sortito l'effetto perché mio padre ha superato il tuo papà il capello lungo sì sì anche se gli diceva sempre a me faceva tu devi tagliare quel bum no lui imita così ma lui mi metti in cambio dell'imene delicata l'aggiungiamo alla fine del jingle ma quindi scusa a te tu ti presentavi a casa no no io ho pisciato prima di conoscere a te pare scusa non è capitato anche ultimamente è ricidiva tre volte quindi tu piaci alle figlie delle guardie ma chi sei diabolic vedi Tahir attrae le figlie delle guardie ma so che Tahir ha avuto un grande boost dopo questo brava perché lui piace molto è un bel ragazzo di successo finalmente l'ho conosciuto ragazzi self made man certo ragazzi ma è anche un rapper vero? non ancora anche se ci sarebbero delle testimonianze un giorno le faremo uscire ma andiamo con la prossima notizia ragazza con nome francese trentenne single da otto anni per colpa degli strascichi di una relazione tossica finita malissimo attrago solo narcisisti che appena capiscono che non intendo pendere dalle loro labbra fuggono alla velocità della luce esiste un modo per non attrare solo ed unicamente soggetti patologici con un ego grande quanto l'oceano pacifico guarda mi scrive solo gente incredibile non so l'altro giorno mi ha chiamato non so Charles de Gaulle mi ha fatto una seruta spaventata un altro presidente della repubblica che mi scrive si morto poi chi c'erano tutti mi sono fatto tutti i capi di stato della seconda guerra mondiale mondiale guarda compreso i suoi senauer Roosevelt alzati da qua però guarda io faccio parte dell'ex tanti soli casa umani e poi ti dico che oltre a gente a Charles de Gaulle che a cui piace molto a The Guilty Pleasure come il pata negra oltre a questo però vi dico che è lì e dipende sempre da come ti poni perché a un certo punto è chiaro che fa tutto leva sui vuoti che c'hai quindi ragazze bisogna rinunciare ai ma quanto sei bella ma lo sai che io senza tu sei l'unica per me bisogna rinunciare a queste robe qua perché è tipo la droga capito sei veramente un bel ragazzo però sei bevista perché è tipo la droga tu sei obnubilata da questa roba che vengono da te e ti fanno sentire l'unica quando unica non sei di base perché siamo tutti insomma mediamente mediocre e deludenti e quindi è la droga perché è tutta una cosa quanto piace alle donne sentirsi dire guarda sei come le altre sei sostituibile sei un pezzo di un lego e in questo momento mi serviva un mattoncino da quattro però è così perché all'inizio questi arrivano e ti fanno sta parata de caviale e invece la vita è pure una volta un po' de caviale una volta una carbonara una volta una minestrone è chiaro che ti prospettano questa vita la stregata d'oro ma non è mai così se fossimo il grande fratello signorina avrebbe chiamato un applauso che crepava ma infatti Michela brava tesoro guarda come le dici te queste cose perché poi di botto questi di botto questi si rivelano per quelli che sono che sono solo io e basta e tu dici ma com'era che era così tanto io ero al centro dei suoi pensieri ma non è vero è tutto uno specchietto delle allodole però quando una donna dice mi capitano soltanto casi umani può essere che in tutta una vita ti capitano soltanto casi umani vuoi dire che poi il caso umano sei te ma no il caso è che manca questa capacità di autocritica diciamo un attimo la verità ha ragione però è un momento in cui tu ci arrivi perché se il problema è sempre quello cambiano gli addendi ma il risultato non cambia è chiaro che uno si deve fare un attimo un'analisi ma è complicato farsela e tutto parte con l'adultità però parliamo di cose più pragmatiche posso leggerne uno vai non dico il nome ciao ragazzi il mese scorso ho iniziato ad uscire con una ragazza e al primo appuntamento mi ha detto che anche lei ascolta Kashmir Podcast questo è stato uno dei modi in cui mi ha conquistato la frequentazione sta andando avanti tuttora e per farvela breve un sabato mattina siamo finiti a fare sesso mentre ascoltavamo la puntata con ospite Matteo Berrettini la cosa divertente è che nel mentre ci fermavamo a ridere alle vostre battute secondo voi è un buon incipit per una storia morbidissima direi di sì ma l'ha scritto Cecilia questo messaggio sta parlando di lei sta parlando di lei tutto un giro per tornare se la chiuda vi riascoltate voi potete ma c'era tutto un giro per tornare che stava pensando a Matteo Berrettini ma ma solo per cosa l'ha mandato da sola ma chiamo Federico Melzi no è un grande questa è una bellissima una bellissima cosa bellissima ti immagini scopare con il sottovoce Tahir che dice ma a me era lo sport non è che mi piace tanto e noi che facciamo i manga sono una merda sono una cosa per coglioni beh però io la voce di Carmelo ecco no ben diverso è copulare con sotto io spero che lei stesse ridendo effettivamente solo per Kashmir però guarda che il vero coitos interruptus quando sei così Carmelo scusami no non volevo dire niente ma Carmelo mi avevano in mente come fare la sigla che bello 10 minuti di Carmelo bellissima cosa bellissima storia abbiamo altre domande dalla sezione come si chiamano femminile sceglietela pure allora io no prima stavo dicendo cose pragmatiche noi parliamo spesso di sentimenti ma l'amore è anche altro noi due parliamo spesso di sentimenti noi due siamo i sentimenti quante volte ci siamo scritti ho bisogno di parlare è una domanda per Carmelo sappiamo che abbiamo il nostro posto c'è una panchina a Villa Mercede dove ci sediamo guardando dritto e come se fossimo due spie il ponte delle spie che quello gli lascia sotto la cimice sotto la panchina e Luca guardiamo fissi dritto e diciamo solo come stai quello è un problema la legge di Paolo Sorrentino si parla solo si racconta i sentimenti dopo 5 litri di birra quindi poi quello che ne riesce ho visto un'ispirazione di Tahir poi ne parliamo dopo scusate ragazzi una cosa molto concreta ragazzo più che una storia è un quesito secondo voi è normale il fatto che ho conquistato la mia attuale ragazza con le mie figure di merda tra le tante storie la prima sera le ho raccontato di quando ho cagato in mezzo al corridoio per rispondere al citofono mi sono accorto dello stronzo solo ore più tardi grazie alle risate del mio fratello un consiglio spassionato quando siete sul cesso non vi alzate per nessun motivo ma scusami prego omettete il nome ma c'era il water nel corridoio o lui nell'anzia non credo che abitasse in un bordello di pigalla del 1901 come ha fatto a non accorgersene a non accorgersene lui alzandosi cioè è la cocaina questo ma no adesso senza andare a dire ma soprattutto come ha fatto a non calpestarlo se non se ne accorta no ma tutto lo lascia alle spalle come molte brutte storie d'amore come le relazioni tossiche lascia la firma mia l'avrà omesso ma magari è pirandello questo no è gente delle parti due posso dire che questa storia ci racconta quanto lui realmente voglia bene a questa ragazza tanto da interrompere fare il classico tagliasigari e partire dal tagliasigari quanto lei vuole bene a lui ma che è il tagliasigari è rientrare in un corridoio dove c'è uno stronzo in mezzo e dire oi grazie per l'invi invito andiamo a mangiare di là ah perché lui ha risposto e poi le ha salita ma no non state capendo lui stava cagando hanno chiamato il citopono si è alzato lui l'ha conquistata solo raccontandoglielo non è che lei ha visto però mi piace pensare posso dirvi una cosa il mio primo fidanzato mi conquistò con una storia molto simile cioè in campeggio vai a me a Luca mi disse che aveva fatto aveva provato a cacare in campeggio però poi nell'atto dello smarmottamento cioè quando sali e scendi sto smarmottando è tornato indietro per il timore dopodiché la sera riprova a evacuare ma i peli del culo li si erano attaccati alla cacca quindi si è fatto una ceretta da solo per fare la cacca ma che bel racconto ma scusa io la sceneggiatura di Rivolsell'italiana e questo si strappa i peli del culo cagando a sapere io sono venuta qui e mi sono detto mi raccomando Michele a Dienidi perché questa è una cosa di classe morbidissimo senti che morbidezza poi siamo a parlare e merda mamma mia e perché quando ti metti l'assorbente ma andiamo avanti comunque ricordiamoci che c'è gente che sta facendo l'amore in questo momento salutiamo comunque anche io ho conquistato Riccardo con le mie bassezze quindi io dico raccontacelo no raccontacelo una raccontacela no vabbè io semplicemente nei momenti isterici del primo lockdown in cui mi davo le capocciate al muro piangevo ero disperata urlando chiamavo lui dicendo perché io pensavo che Riccardo fosse omosessuale perché aspetta questo è un plot twist come che pensai perché Riccardo per i capelli pure tu no perché Riccardo è uno vecchio vecchia maniera educato comunque molto che non è uno di quelli che te si butta e io che non ero quella che sono oggi che ero molto di fretta insomma praticamente ho detto ma perché Riccardo subito no e quindi ho detto vabbè Riccardo tanto non gli piaceranno le ragazze e invece gli piacevano e come ho scoperto e quindi io dicevo io lo trattavo come il mio migliore amico dicevo basta adesso quando finisce il lockdown che io ero stata tradita quando finisce il lockdown io la do al primo che incontro e lui stava lì al telefono che ascoltava ed è venuto sotto casa mia a fare buonasera e lui poi non era non era omosessuale manco ben niente ragazzi miei ma è un vecchio trucco che aspetta che succede Carmelo ma questo è un vecchio trucco quello che ha usato Riccardo quello di fingersi o sembrare o amiccare un'idea ma io cascata con tutte le scarpe lo so completamente è una cosa che ci cascano tutti ci cascano tutti perché io mi sono aperta totalmente questa finzione dell'omosessualità e poi questa è la vera calcio era l'appropriation se permetti dai come si fa come vedo che regala Hemingway ed è subito chiaro mi piace la figa esatto al mio discorso gli hai regalato Hemingway a Ciccina no a Ciccina mai ero migliorato a quel punto dunque scusami andiamo avanti se la conosci durante l'estate 2020 e a novembre causa lockdown vi trovate a convivere e non vi tirate i coltelli anzi state meglio di prima dopo un anno esatto di convivenza che dite la si deve sposare no cioè calmi tutti dai regà che palle costanza del matrimonio no no io sono d'accordo guarda no io dico sì invece fai sta follia così poi ti ritroviamo in cronaca fra un paio di anni sembra un'ottima mossa è una bella cosa c'è un tema importante che è quello delle relazioni sentimentali sul lavoro io non parlo più dopo questo taglio io non parlo più dopo questo taglio successo successo mi è capitato le relazioni sentimentali sul lavoro lo sapete che siccome i dirigenti sono responsabili dei propri dipendenti della produttività alcune aziende vietano vietano le relazioni sul lavoro giustissimo è vero è vero è giustissimo giustissimo ma impossibile sai cosa succede quando vieti una relazione sai cosa succede che fa venire una voglia incredibile di avere una relazione tra due persone è vero no proprio di innamorarsi secondo me lo vieti e ovviamente voglio che succeda esatto e infatti nel mondo della comicità è quasi vietato fra eppure succede pensa quando dico ma che è successo vabbè ragazzi ma se può dire può succedere può succedere possiamo parlare per caso è successo sì è successo siamo tutti maschi però siamo tutti maschi solo io chiaramente ho fatto e quindi prima perché io chiaramente e poi la cosa bella è che la cosa mi dicono oh ma te con la stand up avrai scopato e io zero cioè proprio tu vedi loro che sono tipo stavano così cioè io sono rimettata le vecchie rapone in tiraverna così ma io avevo capito che quella cosa all'olgo Pintus non si poteva dire vabbè dai poi ne parliamo va bene va bene c'era molta tensione sociale ma certo sul lavoro certo che è complesso certo che è complicato adesso tra l'altro siamo nella parte preferita nostra dell'anno cioè le feste di Natale nelle aziende c'è quel momento in cui si butta giù bichino il prosecco in più ma la si non l'hai vista ma mi hai visto la Samantha mamma mia ma la roba non si può più dire un cazzo non si può più dire dire niente l'ho mandato a fare un 150 fotocopio solo per guardarle schiacciare enter dall'ufficio ti posso dire cazzo e d'altronde qua a Macugnaga cosa è che pensa veramente Macugnaga festa della Intel Digit va bene facciamo processori per trattori e abbiamo questa festa aziendale pensa anche sì no mi faceva ridere immaginare in una fattoria a un certo punto il capo dell'azienda agricola qua non si possa avere relazioni stiamo come dentro la Silicon Valley scordatevi che va mucchiata la bovera pecora che era innamorata allora andiamo con un'altra un'altra domanda ok bene allora ogni volta che inizio a conoscere una ragazza inizia ad esserci un po' di feeling quella puntualmente trova l'amore della sua vita che dobbiamo dire a questo ragazzo ma se non ti fai avanti tesoro mio è chiaro che se stai lì la guardi e che dobbiamo fare no non è che cioè bisogna pure molti ragazzi sono soprattutto entro una certa età soprattutto si è anche un po' romantico così si perdono un po' in quest'idea del feeling quando succederà io non voglio affrettare un po' paura non voglio affrettarmi ma no io penso sempre che i ragazzi quando gli interessi vogliono guagliare guagliano no non lo so però c'è molta timidezza allora secondo me sì perché in realtà c'è molto la dico questa cosa che potrebbe dire pure questo bicchiere c'è molto la crisi del maschio bianco etero che non sa più come muoversi perché comunque magari si pensa che manifestare i propri sentimenti sia simbolo di fragilità c'è paura di scoprirsi allora ci si nasconde dietro un atteggiamento per cui si passa o per disinteressati o per stronzi i ragazzi un po' di coraggio perché le ragazze hanno bisogno no? facciamo un appello ai maschi bianchi etero non cambiate mai qual è la peggiore frase che hai mai detto per manifestare dei sentimenti a una ragazza in tutta la tua vita anche da adolescente così proprio che se ci ripensi ti viene un brivido tu mi piaci ok voglio stare con te voglio voglio starci adesso ma è Natale siamo al pranzo di Natale con la mia famiglia tipo sei qui perché i tuoi erano partiti tu qual è la frase migliore che hai detto una volta una mia compagna di liceo che saluto mi ha detto un bacio adesso me lo potresti credere e mi ha detto no 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 ma sai che ho scoperto che Luca al liceo andava tantissimo perché ho beccato una ragazza in un assoranzo che dove mi hanno detto ma lo sai che a Milano e mi hanno detto ma lo sai che Luca era il figo della scuola ma veramente pensa te che bella scuola era il figo mi faceva impazzire mi piaceva tantissimo quindi insomma abbiamo qui la mia madre è stata una roba di Novax mi si è ritrovata il mio figlio era il più bello della scuola con tutto il rispetto ho visto delle foto di Luca al liceo e sembrava il figlio che ancora non ha so se il più figlio ma che avrà ero simpatico eri simpatico era simpatico a noi ci ha salvato la simpatia la simpatia l'unica cosa il più grande quando stiamo per essere trinciati e non avremmo mai fatto l'amore con uno scudo gigante ci siamo parati con la simpatia con la simpatia esatto quanto è importante che un uomo ti faccia ridere Michela Giro totally sì tanto perché a me per esempio Riccardo mi ha fatto ridere io mi sono scelta sempre dei pesantoni incredibili come direbbe zero calcare delle pialle al cazzo proprio delle delle persone molto molto pesanti non insultare i maschi e quindi i maschi bianchi eterosessuali grazie che siete una nuova minoranza e quindi c'erano come che salutiamo che salutiamo però ecco sì secondo me manca molto la leggerezza hai avuto tante persone molto pesanti sai quelle che ti devono un po' insegnare a campare quelli un po' moralisti quindi hai avuto il moralizzatore una delle persone in cui sono state invece Riccardo con Filippo Roma delle Iene esatto volevo dirlo ma dopo Angelo Pintus ricordo una domanda quanto è importante che l'uomo sappia ridere ecco tanto tanto con la compagna la fidanzata cioè con beh non importante bensì fondamentale però è vero che molti uomini secondo me hanno una sorta di barriera che non so se dipende dall'attrazione sessuale o ma a volte vedono una donna che magari li fa ridere con un po' di sono gli stessi uomini che sono autori tu non mi hai mai fatto unire cara mia è bellissimo che dopo le serate di stand up c'erano tipo loro così io scendevo vuoto oppure le tipologie sono vuoto oppure persone che arrivano e ti fanno la battuta più cringe per cercare di oltrepassare oppure capito persone che ti guardano e fanno e poi vanno via sì sì gli uomini che pensano questa cosa sono gli stessi che portati all'estremo arrivano a dire la famosa frase no comunque la mia donna non deve fare i bocchini esattamente non deve avere lo smalto alle unghie quella bocca sarà la bocca che bacerà ai miei figli l'ho sentita l'ho sentita anche io l'ho sentita da ben due persone se un uomo pensa a questo tutti l'abbiamo detto con cui parli ancora tutti l'abbiamo detta mi dissocio no no ho sentito improvvisamente Luca Ravenna aspetta lo diamo Luca Ravenna e Fratelli d'Italia in suo partito ragazzi è uscita male la frase no tutti l'abbiamo sentita e gli uomini che hanno paura di ridere con la propria donna sono esattamente quel tipo di uomini che poi pensano che la propria donna deve essere una monaca quella roba lì è spaventosa ma non c'è più quella roba là no c'è ancora io conoscevo che vuol dire deve saper ridere alle minchiate che dici però la donna che fa ridere molto spesso essendo intelligente spaventa l'uomo che è una cosa che è molto frequentemente ragazzi miei che non lo so perché ci deve essere sempre all'effetto cena lui al centro e tutti che fanno come fai ridere e poi se questo posto poi la prende la ragazza però basta trovare qualcuno che ha coraggio ma la provocazione ma non è bello quando è una danza e si fa insieme un po' lui un po' lei un po' loro un po' chiunque non è l'uomo del cuore Luca Ravenna è proprio lui è un bellissimo scambio di padel esatto si si infatti con Riccardo è così lui mi ha conquistato così stavamo andando al cinema e io ho detto c'è il GF VIP e lui ha fatto un testa coda sul lungotevere dicendo e allora ci dobbiamo fermare mi ha fatto molto ridere quella cosa e mi ha conquistato così meno la polizia stradale meno però non c'era nessuno non c'era nessuno appunto appunto un momento un momento allora ragazzi abbiamo andato dentro la macchina faccio il programma e ho fatto la sei l'ultima io la ho baggiato la tera e la presenta scusi una domanda lei è meno tale basso no come mi hanno detto delle volte ma tu sei il puttanone nano io ho detto fuocherello fuochino 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 la donna deve saper ridere l'uomo deve saper ridere bisogna ridere e divertirsi insieme insieme fammene una come se fossi Ficarra o Picone ah ok va bene va bene va bene ho 25 anni sono da 4 anni in una relazione sta bellissima con una ragazza con la quale mi trovo davvero benissimo caratterialmente ma non mi attira più fisicamente ci sono un poco di problema diciamo da 4 mesi esco con un'altra ragazza molto più piccola che sessualmente mi piace molto per quanto riguarda interessi eccetera non potremmo mai stare insieme cosa faccio chi scelgo la bella o la brava se vi sto scrivendo con un account secondario perché vorrei rimanere anonimo il più possibile caro Salvatore che dobbiamo fare che dobbiamo fare Luca Bete andiamo col servizio Luca Bete quello è il pugliese no Luca Bete è quello un piccolo saluto da Luca Bete è quello campano ragazzi sono Luca Luca a Bete 25 anni così bellissimo ma perché c'è sempre questa divisione che una è una monaca di Monza e l'altra è monaca e basta l'account secondario si chiama Carmelo Mavanzate non so se basta per coprire l'identità di chi ci ha scritto questa domanda 24 anni in realtà c'è scritto 13 però per tanto tempo questa dicotomia è vissuta all'interno dei ragazzi perché gli insegnano questa cosa qua ti devi far la fidanzatina e poi vai a scuola un po' retrograda un po' si riaggancia al discorso di prima no? succede meno raramente fra le donne che ci sia questa narrazione cioè lei sta con lui da 4 anni ma a prova attrazione lei a 33 anni sta a prova attrazione per 1 alle 25 tipo che so Cecilia Matteo Berrettini adesso basta io me ne vado è così Matteo Berrettini è un bellissimo ragazzo ma non credo di essere l'unica a dirlo anche Tahir l'ha detto va bene è chiaro che se te para davanti Matteo Berrettini tornata a casa se è scritta tennis che strano adesso basta parlare di uomini e donne parliamo di tutti facciamo una domanda per tutti veramente domanda semplice chiede un ragazzo comunque come si riparte dopo la soffertissima rottura di una lunghissima relazione ouch allora per me la tattica pomodoro di mare tu devi spurgare cioè per esempio il pomodoro di mare che si attacca agli scogli e tu lo buchi esce tutto no? no allora tu devi spurgare va bene che hai origini nel senso che non ti puoi o c'è la tattica che ti rimetti subito con il cuscinetto e non sono d'accordo però tu devi proprio far uscire tutto il male per poi purificarti e ricominciare quindi secondo me dai ed è tiziano ferro mangiare più che puoi viaggi cinema amici e poi quando è spurgato inizi a farti le prime scopate capito? con molta leggerezza tranquillità capito? però veramente perché poi se no se tu vai subito attacchi a quella persona una serie di responsabilità sulla vita tua che è quel passante ma che ha fatto te male per beccarsi tutti i mali di te del tuo ex del tuo padre della tua madre della tua famiglia parole sagge parole sagge per un uomo è la stessa cosa? no dopo una settimana subito ma non è vero ma no è che non è vero dai su su dai dai mamma mia molto superficiale cosa vuol dire spurgare per un uomo? spurgare guarda non mi viene in mente nessuna analogia se fossimo Cruciani e Parenzo ma cosa dici? ma ti scopiono possum ti scopiono possum ma ti prego se ti scopiono possum ti prego Parenzo abbiamo un nazista vero dalla Baviera abbiamo un nazista Ansel dalla Baviera Ansel c'è qualcuno che nega l'olocausto buonasera della confindustria buonasera dimmi ti sei mai scopato un reduce del processo di Norimberga dimmelo 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 sì ho scopato con Himmler da morto con Himmler da morto bravi che bello che bello mi piace dire la gente che scopa i morti che mi piace il processo di Norimberga se vogliamo è un po' come un pomodoro di mare abbiamo spurgato gli errori è un falso storico un falso storico non è mai esistito non è mai esistito la pubblicità la pubblicità bello bellissima risposta se invece fossimo su che ne so un Rai 1 scelta libera di programma scegli tu quello che vuoi e facciamo la prossima domenica inna domenica inna condotto dalla zia Mara secondo me allora qui la risposta la dà dimmi la risposta qui la dà la zia Mara ho scopato la mia migliore amica fidanzata da tre anni con un ragazzo del mio gruppo dopo quella notte sono tornati insieme però penso di piacerle ancora pareri sparisci ma dove risponde Mara Venier amore della zia io pure con Geri tante volte mi è successo che quante ne abbiamo fatto e io me le sono ritrovate sempre quante botte che io ho dato a Zeri però alla fine ma 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 tu che bottone che bello molto 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 giusta come risposta allora c'è tutto un nuovo vocabolario dell'amore relazione tossica ghosting friendzone avanzating ci sono delle nuove parole che in qualche modo io sono contro la definizione di relazione tossica perché ogni tre per due è una relazione tossica ecco appunto questo è un problema oggi hanno tutti avuto relazioni tossiche tutti mostri tutti è vero è vero no cioè non ci sono dei parametri per definire una relazione tossica capito ho letto l'appunto dopo hai perfettamente ragione cioè sono tutte relazioni chiunque di noi ha avuto una relazione pesante a meno che non ti sia sposato al comune di Cernobil con il sindaco lì che aveva la fascia tricolore dove devo firmare qui con la terza mano guardi col settimo dito prego vado anche a firmare lì io ne farei leggere una a Tair secondo me Tair vai leggi quella con la croce Tair allora sono attirato sessualmente solo da donne prosperose ma ricevo attenzioni solo da donne stile Olivia di braccio di ferro è il karma dice che dire è forse un po' il karma ma cosa vuol dire è brutto ma no ma come si comporta quando è quando è di fronte a queste donne prosperose non riesce a comportarsi per cui poi dopo switcha e passa si comporta secondo me c'ha la stessa faccia di Robin Williams in 24 hour photo ma questo è un film che pensavo aver visto io Robin Williams e la madre Robin Williams 24 hour photo bellissimo bellissimo film ma non è di Nolan ah 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 Nolan è il terzo incomodo nella mia relazione è una cazzata anche Robin Williams ha fatto un film con Nolan sul serio qual è? me lo controlli per favore grazie mille posso leggerne una? certo non dico il nome vai ciao a tutti scrivo per risolvere il mio problema di cuore siccome mi è già successo una volta preferireste chiedere di uscire ad un vostro amico con il rischio di rovinare un bel rapporto oppure vi tenete nascosti i vostri sentimenti verso questa persona meglio i rimpianti in amore o i rimorsi beh se parli così meglio che vai se parli così sembri cattivi sono molto innamorato che non sai di cosenza insomma vabbè però la sostanza insomma no bisogna buttarsi perché sennò lo rimpiangi per tutta la vita basta con sta paura di prendere i pali in faccia completamente cioè nel senso oh ma che dovrebbe dire Jennifer Aniston Beyonce ah è vero tutte mega fregna che hanno preso i pali ci sono state delle situazioni particolari Beyonce ha avuto dei problemi con Jaycee chiamiamoli problemi se è Beyonce cioè fate due domande sono dei problemi capito se c'ha avuto Beyonce c'è pure te de brindisi de dove sei de vetralla qualsiasi posto pure Belen le hanno fatto le corna eh certo eh lo fanno ragazzi le corna stanno bene su tutto però ma io stavo meglio senza chi lo dice ma certo buttare anche per l'alternativa qual è non buttarsi rimanere sempre all'oscuro no all'oscuro di cosa sono i sentimenti di cosa sono i sentimenti il nostro viaggio nei sentimenti il nostro viaggio nei sentimenti benissimo venuti in questo podcast dove uomini di 60 anni parlano di ragazze di mente esattamente mi sono buttato ti sei buttato Giovanni ti sei raccontami sono uomini questo è un bellissimo podcast uomini divorziati di 55 anni che si rituffano nell'amore esatto ti sei buttato ultimamente Giovanni guarda sì peraltro mi piace utilizzare il nome Giovanni quando io in realtà sono Elon Musk che sì ho avuto un divorzio piuttosto pesante mi sono poi di nuovo innamorato di una ragazza semplice che mi ama per quello che sono ma lei ha acqua e sapone assolutamente acqua e sapone che le donne a noi piacciono solo acqua e sapone guarda noi le donne ci piacciono acqua e sapone soprattutto a 60 anni avete notato che queste persone che dicono che gli piacciono le donne acqua e sapone stanno con dei gatti di sale infiniti sì 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 ma quello è un classico mi piacciono tanto le donne a quel sapore anche poi chi seguono su Instagram come sei bella e poi mia moglie lei è mia moglie sentite ma io c'è una domanda che mette d'accordo a tutti vai la prima volta la prima che ci siamo innamorati madonna mia ragazzi oddio a me mi viene in mente moni di scuola di polizia il cartone però ma no in real life in real life perché veramente da piccola realmente la prima volta vera vera è Riccardo per me oh my god possiamo un bel applauso Michela tesoro guarda che Riccardo questa qua proprio si innamora ancora dei suoi questi sono sentimenti veri perché Michela è una persona che veramente ci hai commossa adesso veramente guarda ci hai commossa saluto a mia suocera che preme no in realtà da bambina ah no sai che io dico il primo amore il primo amore è il figlio della proprietaria del rifugio del lago d'Aiala Cortina d'Ampezzo già a Cortina problemi del Vietnam sì vabbè perché si scrive Balduina si legge quindi è così però sì è stato uno dei miei primi amori e il padre gli faceva Hans peso a valle bacino allora con la ragazza romana si chiamava Diego Diego sì sì so se si ricorda di me tipico nome proprio cortinese di Ampezzano è stato uno dei miei primi amori vedi che bella il tuo primo amore anche asilo elementari ma te posso dire no devi ancora superarla amore amore no ma non avevi la fidanzatina era questa questa sposa bambina aveva 4 anni correva dietro una io sono stato sotto una tipo un megagotto di questa l'opposto del cuore ho detto oddio che palle questa era la maestra di matematica ma senza conoscere tipo Mark Altagirone tu l'hai idealizzata Tahir no 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 era tipo era l'opposto del cuore e tu l'hai idealizzata sì sì ma l'idealizzavamo tutti soprattutto a diciamo madonna quando ti innamori della sorella più grande dell'amico è un disastro è un disastro è capitato l'opposto del cuore cazzarola io sì sono totalmente innamorato ma io mi beccai anche lei che usciva dalla doccia io non avrei capito sono diventato un ometto quel pomeriggio sono diventato un ometto e chi era? sono corso a casa e chi era? e chi era? e Carmelo quando è che ti sei innamorato per la prima volta? lo sapevo che me l'avreste chiesto diciamo che tra i due e i sei anni mi sono innamorato della mia genitrice ah e qui affrontiamo un piccolissimo problema attenzione anyone says edipo periodo edipico lo facciamo con alcune rigadute negli ultimi anni insomma diciamo fra due tre anni fa ci sentiamo ogni tanto può capitare ci vediamo io ho avuto però un amico che si era innamorato della zia e quando ce l'ha presentata era identica alla madre cioè era la gemella oddio bello bello vi aveva confessato di essersi innamorato della zia sì tipo the hand of god di sorrentino ma scusate dubito tu quando è che ti sei innamorato invece di sorelle maggiori di amici sorelle maggiori saluto ma tanto è impossibile che senta Francesca Rigues la sorella dei gemelli Rigues che io ero perdutamente innamorato di lei non la ricordo non ricordo il suo viso ma ricordo la sua essenza di ragazza di 15 anni quando noi avevamo otto diventi stupido era una donna fatta e finita poteva parlare poteva dire a mia madre ciao sembra una storia ma l'irigas c'è una sorella frigna bellissimo non me la ricordo ma guarda il frigna sono la dirigas no ma io dico proprio il primo momento cioè ci sarà stato un momento in cui ti siete dichiarati dichiarati la prima volta sei andato lì e hai detto a una compagna un amico un amico noi ci siamo dichiarati e vado ma in realtà non mi ricordo perché io ero molto diretta io sono sempre stata molto diretta il tipo io facevo quelle cose il tipo mi piace un sacco cioè io mi piace esatto mi piace un sacco a me mi usciva sempre bello cioè una cosa insomma figa sì magari ecco guardando un occhio giù un occhio su mi piace un sacco perché per l'imbarazzo però vai vedete che sto facendo mente locale alle elementari avevamo questo sistema sai quando lui si cavea quel pezzo sul sistema vittoriano con cui i bambini si dicono fra di loro come si piacciono eccetera e ugualmente io confessai il mio amore di una mia compagna di classe e praticamente lei ne andò a parlare con tutte quante le sue amiche facevano questo congresso di non erano i probbi viri erano le probbi donne non so e venne deciso che io ero un esemplare adatto a fidanzarmi con lei quindi a quel punto mentre giocavamo a una partita di calcio nel campetto della parrocchia alla Balduina dove non so perché io stavo giocando ero in porta però ricordo distintamente che ero in porta mi ricordo che loro cantavano tutte insieme una canzone che tipo diceva lui sono innamorata di te ah sì sì è vero e quando mi giravo cioè c'erano tutte quante queste dieci c'era lei che era tipo la punta centrale tutte quante le altre messe dietro facevano questo balletto e mi indicavano allora quando però io non dovevo vederle quando mi giravo scoppiavano a ridere intanto gol su gol che prendevi io nel frattempo gol su gol perché esatto pensavo tanto sembra tipo il ballo degli uccelli ed è così ed è così è così questo sistema estremamente complesso che però mi ha portato è vero in realtà prima relazione importante in realtà io non lo sono stata io ero innamorata del compagno di elementari di mia sorella che si chiamava Luca era molto buono ci piaceva a tutti e quindi io feci questa cosa proprio degna di non lo so al cibia dello stratega perché andai da uno dicendo senti a me piace tantissimo Marco però non glielo dire questo si alza va da Marco Marco e lei mi fa ho saputo che io ti piaccio tantissimo e mi bacia io proprio gioccata però è stato molto bello perché ha fatto tutto lui win win ah no era il fratello di Luca lui si chiama Marco Marco molto figo questa tattica militare fosse stata una ora probabilmente una doppia personalità no 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 era il fratello ma ho sbagliato nome però sì c'era questa sorta di canzoni balletti il congresso le letterine ti vuoi mettere con me sembrano quelle cose sai i documentari di David Attenborough quello sui sugli uccelli però io l'avevo anche in contemporanea cioè io avevo delle situazioni tipo harem cioè io avevo deciso che ero fidanzata con l'80% dei bambini della mia classe this woman thinks that all the boys in her classroom are in love with her she goes to a friend and asks for the hand of her best friend but let's go back to 1992 when a little kid from Milano sent the letter to Elisabetta Rocca who didn't answer non ha neanche risposto 30 years later the guy is here still waiting for the answer non ha mai risposto Elisabetta Rocca e adesso si mangia le mani Elisabetta mia ti sei mangiato avrà tre figli si fa un lavoro fighissimo lavora effetti speciali lo so perché sono amici su facebook ma io in seconda elementare ho detto ti vuoi mettere con me sì o no perché questa seconda elementare non ci siamo mai parlati in prima sì in seconda no gradirei una risposta lei ha detto era più alta di me di tanto così un leitmotiv della mia vita e quindi niente a lui sai qual è l'effetto speciale che ti rispondevo da sì e vabbè e vabbè il grande il grande il bel amore vogliamo fare un giro finale di domande però risposte secche vai allora dice caro Cashmere i miei problemi di cuore non li ha risolti la posta di Sonia e dubito che ci riuscirete voi quindi vi chiedo solo dei consigli su come riconquistare la mia ex dato che non vuole né vedermi né sentire no basta lei è parte europea occhi grandi come il sole e profonda come in aboli di sotterranea infatti ci sta un garage dove stanno a parcheggiare in diverse persone consigliatemi la più bella poesia d'amore che conosci no ti consiglio la polizia rinchiuditi basta questa è gente che tratta malissimo le persone e poi la rivuole ma che è in cavatappi no va via vattene andiamo avanti mi sono innamorato in Erasmus e lei ricambia ma ha il fidanzato il problema più grande è che entrambi vogliamo portare il tutto al di fuori dell'Erasmus ma entrambi sappiamo che è molto molto difficile anche perché io vivo in Brianza e lei a Parigi mi pensavo in Brianza e lei a Bandouin e tira fuori guarda ti mando un mobiletto e abbiate coraggio e troncate le vostre relazioni perché qua è sempre il piede in due staffe che uno deve sempre cadere in piedi no bisogna essere disposti a e allora restiamo in Erasmus perché abbiamo incontrati in Erasmus in Germania scopa amici io mi sono innamorata e lui è sotto per la sua ex svizzera a capodanno di quest'anno tornerò in Germania per vederlo e lui mi ha detto che forse dobbiamo annullare la visita al museo che avevo già prenotato perché l'ex viene a trovarlo e vuole andare a cena con lui faccio finta di niente per rimanere amici o taglio i rapporti c'è tutta questa storia per chiudere il museo vai via troncare troncare via troncare troncare Tahir volevi dire qualcosa? no 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 ti stavo dando il permesso il permesso di? di leggere vabbè basta il permesso di leggere quella che ti ho scritto io quella che mi hai però lo sai che la dovrei ma tu sai che però che era? è molto concisa è molto concisa ah vedi pensa un po' sei tu Tahir? ricordamela perché sai che non la sto ritrovando ah io ce n'ho una speciale che non è per te Michela non l'abbiamo letta prima ciao Luca ciao Edo domanda per me l'avanzato quante ne ha timbrate il maestro quest'estate durante il vostro magico tour? eh dovrebbero parlare alcune dovrebbero parlare delle persone morte delle persone no diciamo che non basta una pentola di pomodori di mare per parlarne va bene Tahir vuoi ricordare la domanda che mi avevi fatto? no mi sa che non te l'ha scritta eh mi sa che ce la vuoi dire a voce Tahir poi l'avrei tagliata andiamo con le domande finali Edoardo mi ha fatto lasciare la mia ragazza allora adesso come? beh io ho fatto ho fatto una devo dire che se stai con Edoardo ubriaco una sera due cose possono succedere o fai un podcast o ti fa lasciare la tua ragazza sì perché è un evento più unico che è raro Edoardo ubriaco ma non è vero c'è stato un momento father and son per cui Tahir mi sta ancora ringraziando ricordiamo sempre che i consigli sui sentimenti sono buoni ma in realtà non saprò niente nel senso che sa sempre cosa fare l'altra persona poi però sei tu che devi andare lì e tirare fuori le carte che hai nel mazzo ma che perla di saggezza Luca ogni tanto ne butto un paio in modo questo lo vedo così ma questo ha fatto lol abbiamo fatto abbiamo subito lol questo lo dirà la storia quando mi avete detto il tema in realtà la prima cosa che ho pensato è se avessi mai mandato una lettera e in realtà la seconda domanda è ma quanto dureranno le cassette della posta ancora secondo voi arriveranno al 2030 secondo me non possono toglierle non si possono togliere non si possono togliere non si possono togliere ma a un certo punto no mi piace pensare che ci saranno per sempre e sempre potremo ricevere o sognare quella cartolina quella letterina d'amore e poi quanto è più bello inviare una lettera e magari che so è più bello con un bacio con il rossetto che ricorda l'amata eh esatto sulla cartolina è vero Carmelo con le sue mutande usate nella busta con gli slip usati di Carmelo come pegno d'amore non è una cosa meravigliosa ma lì ci vuole un grosso pacco il calabrone per inviare le poste è un pacco speciale i calabroni gialli e marroni ah lì è scevole a leggere qualcosa io ho una domanda direttamente dal Vietnam prego attenzione parioli Fleming se il tuo ex è la tipo con cui ti ha tradito lavorano nel maneggio in cui devi andare quasi ogni giorno beh Clarissa cosa dire mi rendo conto che avrai chiesto ai tuoi domestici siamo benvenuti a forum io sono la vostra Barbara Palombella esatto oggi abbiamo qui con noi Manlio lo stalliere del circolo non so che cazzo di circoli ci siano il circolo della nutria ippica tevere questa situazione è terribile cioè mia figna deve andare al circolo e beccasse sempre quello con cui di che cazzo è il tipo che l'ha tradita l'amica cioè mamma io pensavo di averlo perdonato e invece avere l'idea di avere tutti i giorni lui lì di guardarlo mentre dà la biada dal cavallo mentre io sto lì cercando di fare gli ostacoli per andare a partecipare al palio di Siena lo trovo una cosa veramente sbagliata lui la saluta sempre quando arriva sempre con il ciuffetto da Romano non hai letto il nome lei si chiama Ilona Staller attenzione l'aspettavamo l'aspettavamo questa speravo di non dirla io speravo di non dirla io mi avete dato sto ruolo allora c'è anonimo accercasi dignità amico mio controlliamo che non duri 47 minuti ho conosciuto una ragazza ad una festa di Halloween a Roma dove ci baciamo ma torno a Milano il giorno dopo dopo due arduo ricerche su Instagram la trovo le scrivo e dopo sei messaggi mi chiede di uscire appena fossi tornato torno a Roma ci esco tre volte scappano baci la terza volta mi chiede di salire a casa sua mi presenta pure la sorella prende una boccia di vino e si fionda in camera succede quello che succede è qui adito interpretazioni andando mi chiede di lasciare il mio accendino perché aveva il suo colore preferito azzurro un bic azzurro ora sono a Milano ogni tanto ci scriviamo ma mi manca da morire non so se dire la verità che verità non sono nemmeno sicuro di quello ah non sono nemmeno sicuro di quello che provo aiuto veramente scendo a Roma il 22 per Natale che faccio le scrivo prima aspetto ma che problema è ma che problema che cazzo di stare è non lo so è bellissima semplicemente tu stai a Milano e ti vada e spende i soldi per venire tutti i weekend a Roma amico mio ma se stai a far fuori sede a Milano mettite una mano sul cuore e vai a trovare sta Cristiana vieni con Blablacarra al massimo e poi piacere come si chiama lei Pacciana però insomma è questo ragazzi se va buttate il cuore oltre l'ostacolo oltre i bonifici dei vostri genitori i bonifici dei genitori i bonni i bonni i bonni e Clyde signori ringraziamo Michela per essere stata grazie mille per esserti aperta per essere stata sincera per aver aperto il tuo cuore speriamo che i tuoi consigli siano serviti tanto ai nostri ascoltatori grazie ragazzi una chiacchiera fra amiche ci siamo tanto divertite fra vecchie amiche grazie Luciana grazie Giovanna ma che sta a fare la pelle che sta a fare a trucchetti ah perché ti sta a fare trucchetti Michela ma non è che te sta a fare punturine no lo sai che mi dicono tutti se l'ha detto no fino al 2022 mi hanno detto che io prima o poi dovrò iniziare ma io non vi dico ma io non voglio chi te l'ha detto non voglio io non voglio fare punture di niente cioè non me voglio mai rifà no lo sai cosa io mi spacco di crema questa è una crema al veleno di vipera al veleno di vipera e poi mi a casa intanto immagino Riccardo che sta davanti allo specchio sta per legarsi i capelli al suo punto vede veleno di vipera poi lo sai che io l'ho mazza mi farebbi da solo l'ho introdotto alla cura del corpo Riccardo e del viso ah sì gli faccio la skin care di Riccardo sì sì io ho comprato dei prodotti niente male i cetrioli il bidet quante cose gli ha insegnato a Riccardo no Riccardo è molto pulito però la skin care glielo io ogni tanto gliela faccio lo massaggio sta attenta che poi diventa come David Beckham con Victoria che ci oscura poi devi stare attenta ma quello già avviene lui è troppo bello già cade lui è bellissimo ti immagini uno spot bellissimo potrebbe essere di Nivea qualche prodotto da dietro vedi questi capelli lunghissimi poi si gira ciao sono Riccardo e questa è la mia beauty routine every day every life perché io valgo stop valgo molti di voi stiamo scherzando un sacco su Riccardo il segreto del mio collo alto perché sono una giraffa no scherziamo un sacco perché a parte che stai descrivendo un sacco di momenti che voi vivete insieme super costruttivi all'interno cioè tu gli hai spiegato delle cose su skin care e lui mi ha insegnato come si lavano i piatti una cosa che non lo sai purtroppo quando cresci nel Vietnam capito poi lui ha questa tattica che mi fa amore grazie dei piatti che dico ma veramente perché lui cucina giustamente pretende solo che io sai avendo fatto il viattro non faccio nulla perché non so come si fanno queste cose tu converrai con me e quindi chiaramente mi costringe a e poi poi lui è proprio costruttivo sì sì perché poi lui mi fa questa cosa funziona questa cosa mi aiuta molto dentro casa grazie cioè mi fa questa cosa da santone che a me nervosisce ancora di più però è vero perché io insomma se per me ti vado a lavarmi il ban ora mi chiedo con il siero di vipera non dico ho dovuto strangolare una vipera perché quella dice la vipera ma le viperi vado a cacciare io e gli a dire il collo abbi pazienza sono un ragazzo abruzzese resto umile e andiamo grazie mille grazie a voi poi dico io non do consigli dall'alto di nulla ma solo perché avendo avuto tante relazioni tossiche avendo perpetrato il male avendolo subito ogni tanto qualcosa ho imparato ci tengo a dirlo perché mi consigli tu è per questo ma mi chieda se è tossico come il veleno farmaco è sia tossico che l'antito è vero è isola tiberina tu mi insegni i serpenti e poi ci si fa la crema al siero di vipera e tutto torna e tutto torna grazie ai nostri morbidissimi ascoltatori grazie Carmelo grazie Tahir Cecilia Alice e Gaetano ciao 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 vado a far più a male che? ci siamo scordati e che anzi io anche vi devo dare un regalo va bene ok io sto girando sì ok ragazzi prima di andare via vi devo fare un petit cadeau vai come sapete io ho una linea di magliette che vi regalo una ma noi noi siamo pagati ok la maglietta della Lazio un'azienda con cui un'azienda con cui tu lavori la SS Lazio ecco che stiamo casualmente inquadrando in questo momento su Mediaset era finita male questa eccoci qua una ma grazie che figata ciacciona simpatica questa per cosa la metto tesoro ma tesoro ma cosa succede? cosa ciacciona simpatica Michela Girò ma siamo impazziti ma top amore amo love love super persona sei tu dove cazzo ci vado con questa tesoro questo è il taglio proprio mio del fisico guarda ah ma non lo so però mi va un pochino stretta sotto il seno e mi si alza sopra l'ombelino c'è questo cotone top che veramente quando lo indossi non lo vuoi togliere più capito? ragazzi se volete usarla veramente bene parla voi maschiatti allora una rigetta di Keta un po' di MD si va a ballare in una darkroom con questa maglietta e fate un figurone e torni a casa che sei una groviera grazie mille grazie grazie non vedo l'ora di vedermela indosso sia chiaro Alice questa maglietta non si fa l'amore resta sua già eri incontro molto bene grazie mille grazie grazie è uno scherzo è uno scherzo io ora mi ammazzo